Eccoci arrivati alla quinta puntata di Chucky che come ogni settimana è andata in onda su Italia 1 il giovedì dopo il consueto film di Harry Potter e anche questa quinta puntata è diretta da Leslie Libman. Che dire allora se quella della scorsa settimana l'avevo trovata interessante ma non tra le mie preferite questa quinta puntata è stata veramente degna di nota mi è piaciuta tantissimo ovviamente questa sarà una recensione spoiler quindi nel caso non aveste visto l'episodio recuperatevelo su Mediaset Infinity gratuitamente poi tornate ad ascoltarmi. Dunque innanzitutto vediamo inizialmente una Caroline che vede questa bambola tutta malformata distrutta dal fuoco dopo che sappiamo ciò che è accaduto negli episodi precedenti e quindi decide di sbarazzarsene. Il padre la butta via però un po' omaggiando Toy Story 3 no è lozzo vediamo la nostra bambola che torna alla finestra di casa della sua Caroline e la vede con un nuovo bambolotto che è stato acquistato subito online dal padre di Caroline Tommy. E quindi lì facciamo 2 più 2 il nostro Chucky proietta la sua anima all'interno del nuovo bambolotto e si lascia cadere infatti i nostri protagonisti decidono di rifarsela con il bambolotto quindi lo prendono iniziano a prenderlo a botte a calpestarlo pensando che l'abbiano ucciso mentre in realtà Chucky ha trasferito la sua anima nell'altro bambolotto nel bambolotto Tommy. Quindi poi alla fine quando sono nel teatro della scuola e Chucky fa trovare la preside con la testa mozzata capiscono che c'è qualcosa che non va. Mi piace molto questo rapporto questo trio che si va a creare e cioè quello composto da Lexi, Jake e Devon che cercano inizialmente la bambola tra i rifiuti non la trovano da nessuna parte perché intanto Chucky si era fatto proprio di droga era caduto tra gli aghi usati tra queste punture usate all'ospedale quindi era euforico era su di giri però come vi ho già detto era poi tornato nella casa ormai malmessa della famiglia di Lexi per trasferire la sua anima in questo nuovo bambolotto di Caroline che poi è assurda questa cosa. Cioè fateci caso ormai per proiettare l'anima in un altro corpo come anche nei film precedenti ci vuole un attimo quando invece nei primi tre film c'era il nostro Chucky che tentasse di entrare in Andy o in altri personaggi così a caso ci voleva sempre un'infinità. Cioè quando Chucky viene braccato da qualcuno e quindi deve essere fermato Ci vuole sempre dieci ore. Dipende un po' dalle soluzioni di sceneggiatura. Ora ci vuole un secondo. Sono cose sono dei difetti ma vabbè su cui ci si passa anche sopra ci mancherebbe però mi fa ridere questa cosa. Quindi dall'altra parte abbiamo anche Junior il cugino del nostro Jake che comincia ad essere geloso per questa relazione che sta nascendo tra Lexi e Jake perché Junior non sa della bambola anzi provano anche a dirglielo ma lui non ci crede. Quindi sicuramente due più due lo farà quando vede la preside con la testa mozzata. Allo stesso tempo in questo episodio viene anche viene anche rivelato il segreto della della madre di Junior di Bri perché parlando con la sua terapista sostiene di avere un cancro al quarto stadio. E quindi che ahimè purtroppo non avrà ancora molto da vivere da quel che si presume. Quindi Chucky lo sapeva già ricordiamoci io conosco il tuo segreto e questa cosa sicuramente creerà molto scompiglio in famiglia e se pensiamo a quanto abbiano sofferto adesso anche questa situazione beh la faccenda sicuramente si complicherà. Poi per la prima volta vediamo Jennifer la nostra Jennifer Tilly e allo stesso tempo anche anche Nica Pierce che ricorderete dal culto di Chucky che fosse proprio posseduta da Chucky stesso che l'avesse anche quindi riportata a camminare perché è posseduta da Chucky. Chucky che aveva frammentato la sua anima in tanti piccoli pezzi inserendola nei vari corpi umani negli altri bambolotti. Non abbiamo visto che fine abbiano fatto gli altri bambolotti perché sappiamo che ci sono però allo stesso tempo abbiamo intanto rivisto Jennifer Tilly e Nica in questa stanza di hotel pronti a torturare il tizio di turno. Le due si stanno si stanno teneramente in maniera saffica baciando perché ricordiamo sì sono due donne però dentro il corpo di Nica c'è Chucky c'è Charles Lee Ray e quindi è interessantissimo vedere una Nica che ad un certo punto vedendo il sangue torna un attimo ad essere se stessa reale quindi pum cade in terra mentre Jennifer era alla ricerca di cibo. cade in terra e chiede scusa al malcapitato fa per salvarlo ma poi Chucky riprende il sopravvento e quindi sgozzerà questo tizio. È interessante quindi vedere questo contrasto tra un barlume di lucidità che appare ogni tanto e la follia estrema di Chucky. i flashback di questa puntata si svolgono negli anni 80 e ci presentano il primo incontro tra Charles Lee Ray che è ringiovanito ed è credibilissimo con una rossa Tiffany che poi diventerà bionda la porterà a casa assieme ad un'altra ragazza e insieme compieranno il loro primo compieranno il loro primo omicidio quindi il primo omicidio è stato compiuto e c'è quasi una sorta di orgasmo no da vivere da provare uccidendo il prossimo anche da parte della nostra Jennifer Tilly. quindi vediamo come i due si sono conosciuti vediamo ciò che subito li ha uniti cioè il desiderio di uccidere il desiderio di far del male al prossimo. Allo stesso tempo la nostra bambola Chucky secondo me è fantastica con il volto sfigurato mi è piaciuto ripeto l'omaggio a Toy Story 3 quando si affaccia al vetro no? e vede la bambina con un altro con un altro tipo bello così che allora i nostri protagonisti Lexi, Jake e Devon tirano fuori il bambolotto come vi ho detto prima dal cestino e cominciano a colpirlo a distruggerlo lo decapitano senza sapere che il nostro Chucky avesse quindi proiettato la sua anima altrove. Sarò curioso di vedere adesso come entrerà in scena pure Andy sarò curioso di vedere cosa accadrà nel prossimo episodio perché penso proprio che Nick e Jennifer si vedranno di più ma soprattutto ci dovranno far capire come mai il bambolotto sia approdato nelle mani dei protagonisti di questa serie cioè c'è un perché è casuale che fosse finito sul banco di quel mercatino dell'usato c'è un cerchio che deve andare a chiudersi e quindi ci sono dei collegamenti io da Don Mancini dalla sua mente creativa geniale me lo aspetto cioè niente deve essere lasciato al caso questa serie a me stava colpendo anche senza nessun riferimento al passato però giustamente fa parte del canone e quindi mi fa piacere percepire capire scoprire come ci si avvicini a quello che noi sappiamo in questo caso ti cominciano un po' a ricostruire i pezzetti del puzzle ma deve essere ancora completato quindi Andy ma anche la sorellastra di Andy della bambola assassina 2 che tornava nella post credit del culto di Chucky cioè sono tutte cose che spero di vedere ricordiamo tutti gli altri bambolotti ricordiamo un Andy intrappolato c'erano molte cose molte cose da da ancora portare alla scoperta dello spettatore da far scoprire allo spettatore però mi piace come tutto venga collegato cioè se una persona che fino a ora avesse visto la serie si ritrova senza aver visto il passato della bambola assassina si ritrovasse a vedere questo quinto episodio avrebbe delle perplessità perché ora ci si ricollega seriamente al passato cinematografico quindi ecco io che posso dire questa puntata mi è piaciuta mi è piaciuta molto con con un finale così cattivo con con il sindaco il detective tutti lì pronti a parlare no la nostra la nostra il sindaco la madre di Lex e Caroline che è pronta a spillare i soldi ai cittadini per rifare casa propria pensa di poterci riuscire invece da un momento all'altro pum la preside morta la testa mozzata che rotola proprio sul palco ecco quindi cavolo cavolo mi piace la regia di Leslie Liebman e vediamo un po cosa possa accadere nei prossimi episodi che tra l'altro no Leslie Liebman era la regista anche dell'episodio precedente ho quella pagina aperta Wikipedia per ricordarmi tutto e Leslie Liebman era anche la regista dell'episodio della scorsa settimana me lo ricordavo ora ne mancano tre alla fine perché abbiamo visto il quinto in totale sono otto e quindi io sono molto curioso fatemi sapere la vostra nella sezione commenti vi ricordo che trovereste nelle info tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale che abbonando vi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto e noi ci vediamo al prossimo video ah PS ma quanto è bella la sigla di Chaki stavolta si forma il nome Chaki con i cuori delle persone vabbè bellissimo vabbè vabbè io sto amando questa sigla sigla ragazzi alla prossima e viva Chaki